Signori e signori, Yoko Yamada! Prima di salire sul palco ho questa vocina nella mia testa, una vocina bellissima che mi dice non ce la farai mai, il tuo pezzo è una merda, non riderà a nessuno, questa è l'ultima volta che ti esibisci, questa ogni volta, poi in realtà salgo e tutta questa citazione magicamente scompare, sono tranquillissima, non sempre, però di solito è così, prendo il microfono e vado. I giapponesi e gli italiani sono due popoli completamente diversi tra loro, prendiamo in considerazione anche solo una conversazione, per esempio una conversazione tra giapponesi è l'opposto di quella italiana dove ci si interrompe, ci si parla sopra, è un casino, no, 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 un giapponese nutre per il suo interlocutore un interesse altissimo, un rispetto massimo, mi sta anche a una curiosità genuina, è tutto un... Eeeeee... Mmm... Soka! Ma in qualunque contesto, è anche informale, anche tra amici, tipo Tanaka hai pestato la merda... Eeeeee... Mmm... Arigato, arigato... È tutto, è tutto un... Continuare a dire grazie, grazie, arigato, arigato gozaimasu! Devi sapere che io mi sono laureata in giapponese e, parentesi, non è come molti pensano che, visto con gli occhi a mandorla, allora mi era tutto facile o no, allora chiariamo subito, io sono mezzosangue, non bilingue, infatti ho voluto studiarlo perché in realtà non lo sapevo, ma proprio niente, pensa io sapevo scrivere il mio nome là e all'università ho capito che lo scrivo sbagliato, cioè l'unica cosa che sapevo per farti capire. Grazie a Dio non te lo sei tatuato, grazie a Dio, ero lì lì, poi c'è scritto pesca e rete, in realtà... Esatto, è un percorso di laurea che io consiglio a tutti perché da moltissimi sbocchi, infatti io adesso faccio la commessa. Ah, fantastico! Io sono nata qua in Italia, ho sempre vissuto qua, eppure sento che c'è qualcosa in me di estremamente orientale, sì, li ho chiamandola, grazie al cazzo, intendo qualcosa di molto più profondo che risiede proprio nel mio modo d'essere e questa cosa è la mia difficoltà a dire di no, cioè per esempio io sono praticamente astemia, mi fa schifo l'odore del fumo e mi fa cagare alla music house, ma se tu mi inviti ad un raduno di tabagisti in discoteca con open bar io ti dico, volentieri, questo perché un giapponese non ti dirà mai di no, per un giapponese è considerato troppo scortese e maleducato e quindi ti risponde con questa parola gentilissima, educatissima che è ciotto, che esprime un vago dissenso, tipo ti va di venire a cena da me una di queste sere e tu vorresti dire no guarda sono impegnatissima, ciotto, oppure vorresti dire no guarda la tua cucina mi fa cagare, ciotto, oppure anche guarda è inutile che ci provi, mi scopo già tua sorella, ciotto, quindi capite che io qua in Italia spesso mi sento giapponese, eppure ogni volta che sono in Giappone mi sento italiana, come quella volta in cui ero a Tokyo, ero su un autobus, avevo le palle girate per i cavoli miei e sto giapponese continua a fissarmi, anche a me a un certo punto mi parte l'italianissimo che cazzo guardi e questo inizia scusa scusarsi, ma se mi ma se sto cazzo, ma vai in mona te e tomare, e quando dico così l'autista inchioda, io mi ricordo che tomare in giapponese significa fermati. Parlando di cose importanti della tua vita, quali sono le persone più importanti? Sicuramente la mia famiglia, la mia compagna, in particolar modo mio padre, lui non lo sa, ma io gli devo una parte di diritti in quello che faccio perché è sempre nei miei pezzi, mio padre per me è una persona straordinaria, pensa lui si è trasferito in Italia a Brescia 40 anni fa e faceva il sessatore di pulcini. Ed è stato condannato per crudeltà verso gli animali? Allora, il sessatore è colui che capisce se è femmina o maschio, è una roba velocissima, io da piccola gli ho sempre chiesto, ero ammaliata, ma in realtà la verità è che non lo sanno neanche loro, perché è una cosa che fanno unicamente i giapponesi, è velocissimo, tu in un secondo capisci guardando il culetto del pulcino, lui non lo so, lui mi spiegava tipo tu guardi più, ma se è così, oppure non lo so, sa di fatto che era femmina, femmina, maschio, femmina, velocissimo. Ok, però non lo sanno neanche loro, mi sembrava la cosa più... Non lo sanno neanche loro, adesso fanno altro lavoro, pensa qua a Milano a fare la guida turistica. E poi parliamo di quelli che arrivano col gommone, sono i giapponesi che vengono a robarci il lavoro, soprattutto noi milanesi, ci parlavi dei diritti delle royalties mai pagati a tuo padre, infatti di cosa parlano i tuoi pezzi? Appunto, i miei pezzi parlano soprattutto di lui, ma anche dei miei disagi, della mia vita in generale, cioè io mi rendevo conto che parlando di queste cose, mi sembra di vivere in un mondo pieno di contrasti, ed è meraviglioso, io mi rendevo conto che parlandone con amici sconosciuti, che ne so, a feste così che incontravo, erano molto incuriositi a sentire di queste storie, allora ho pensato di portarle anche su un palco. Chiaro, qua ci faccio i big money. Esatto, era quella l'intenzione principale. Decisamente, giustamente. Ecco, poi un'altra cosa di me, sono lesbica e tanti mi dicono, oddio, ma tuo padre come l'ha presa? Bene, ragazzi, mio padre è un uomo moderno, si è trasferito in Italia, a Brescia appunto, 40 anni fa, si è perfettamente integrato nella vita di tutti i giorni, solo che, diciamo, lui, cioè se lo guardi è una persona normale, però è in armatura samurai, elmo di ferro, calzari corazzati, foderati in pelliccia d'orso, una katana, forgiata 700 anni fa, e mi ricordo ancora quando feci il coming out, lui era rimasto un po' in silenzio, io vado da lui e gli faccio, papà, cosa ne pensi? E lui fa, Yoko, piccola Yoko, ti ho mai raccontato storia di ciclo di Runa? No, mai. Runa è molto timida, però ogni notte fa piccolo passo per mostrarsi al cielo e c'è un giorno in cui si mostra nella sua berezza e risprende. Io gli faccio, è bellissima, papà, cioè tu mi stai dicendo che io sono come la luna, adesso che ho fatto coming out non farò che brillare perché ho mostrato quello che sono veramente, giusto? No, significa che quando tu e tua fidanzata avete ciclo stesso giorno, grande casino. Grazie. Yoko Yamada. Yes.